Grazie a tutti E' uno dei problemi che ancora non è stato risolto del tutto ma probabilmente verrà risolto a breve Che noi beta tester abbiamo incontrato durante la beta Nel gioco completo c'è ancora un piccolissimo bug Che però mi sembra di aver letto, non ne sono sicuro, dovrebbe essere fissato a breve Se voi state giocando e... ah ecco, altro colpo di fortuna della torre Se voi state giocando e praticamente fate al tab sul vostro computer E poi successivamente è tornato a gioco come avevo fatto io in questa partita La funzione della Pictures in Pictures, ovvero quello schermo piccolo che appare mentre vi state ritirando con il vostro verme E l'azione sostanzialmente da un'altra parte, una specie di finestra di quadro Sì, ce l'avete presente Non c'è Cioè, c'è, la vedete, però la vedete nera Come nel mio caso Ecco, questo è l'esempio perfetto Io avevo fatto al tab e questa funzione qua del rettangolino Invece di vedere il verme che cascherà quando esplode Mentre mi stavo ritirando Non vedevo assolutamente niente Non è un problema grandissimo E penso appunto, come ho detto, che verrà risolto a breve Però era per raccontarvi, tipo, uno dei problemi che abbiamo avuto Uno dei problemi più frequenti che abbiamo avuto durante la beta E adesso mi sembra che questa sia la mossa conclusiva Sì, è la mossa conclusiva Sì, sì Questa è la mossa conclusiva E grazie, come vi dicevo, alla mia torretta Alla torretta automatica Alla torretta di scesa Ho vinto la partita Quindi, grazie davvero Senti Guns Questo era il mio primo commento di Warus Ultimate Mayhem Spero vi sia piaciuto E... beh Ci vediamo nella prossima partita Grazie per avervi seguito Godetevi il risultato finale Cioè, godetevi Io me lo do Perché la mia prima partita vinta Insomma, è sempre una bella cosa Ciao a tutti Grazie a tutti